Amici di Cusano Italia TV, buonasera e benvenuti a questo nuovo appuntamento con la grande storia sul 264 del digitale terrestre a spasso nel tempo, una puntata a metà tra storia e attualità, l'attualità ci porta in Gran Bretagna a proposito della morte della regina Elisabetta II, ci sono stati i funerali, ancora andrà avanti il lutto in Gran Bretagna, soprattutto per alcune parti della famiglia reale, della monarchia inglese, ma noi parliamo ovviamente di quella che è stata la storia dei 70 anni di regno, di colei che abbiamo ribattezzato e possiamo vedere il titolo, la regina dei due secoli, Elisabetta II, perché ha vissuto la seconda guerra mondiale, poi come regina del Regno Unito ha vissuto tutta la guerra fredda, la guerra di Corea, la crisi di Suez, le altre guerre arabo-israeliane, la guerra in Vietnam, la guerra delle Falkland, il crollo del muro di Berlino e del comunismo nell'Europa dell'Est e le due guerre del Golfo, l'11 settembre 2001, gli attacchi agli Stati Uniti da parte di Al-Qaeda, i numerosi attentati terroristici che hanno colpito negli anni anche la Gran Bretagna, fino alla guerra in Ucraina. Ovviamente questi i fatti principali che hanno caratterizzato i 70 anni di regno e la vita della regina Elisabetta, per parlarne vi presento subito il nostro primo ospite che è in studio, lo ritroviamo con piacere, il professor Giuliano Caroli, bentornato a Cusano Italia TV, e soprattutto bentornato a Spasso nel Tempo con la regia di Federico Aielli, ricordo il professor Caroli, docente di storia delle relazioni internazionali e di storia dell'Europa orientale qui all'Università Nicolò Cusano. Prima di vedere un servizio introduttivo che va anche a ricordare proprio la regina Elisabetta, quella che è stata la sua morte l'8 settembre scorso. Professor Caroli, le chiedo quella che è un po' abbiamo ribattezzato in radio alla storia oscura, la fotografia radiofonica. Qui possiamo parlare di fotografia vera e propria. In pochi secondi come descrivere la regina Elisabetta? Così come abbiamo detto noi è titolato la regina dei due secoli, è il caso di dirlo. Esattamente, sì, regina di due secoli con tutti gli eventi che si sono succeduti nel tempo. Possiamo anche dire una persona, una personalità in grado di percepire quello che era l'orientamento generale della popolazione britannica in relazione ai diversi eventi mondiali. Secondo me la caratteristica di Elisabetta II è proprio questa, anche se ovviamente per motivi costituzionali non poteva intervenire direttamente nella politica estera, però è riuscita di qui appunto, vediamo il grande amore che l'è stato dimostrato, a percepire e a rappresentare quello che era l'orientamento dell'opinione pubblica britannica in relazione a tutto ciò che accadde in questi due secoli. Ovviamente parlando di storia, come detto, attraverseremo per quello che è possibile ovviamente i 70 anni di regno, però ho detto anche prima, no professor Caroli, non era regina ma ha vissuto in prima persona, e la vediamo peraltro grazie a Federico Agnelli, qui una giovane regina Elisabetta, ha vissuto in prima persona la seconda guerra mondiale, per un attimo tuo padre aveva anche pensato di abdicare il suo favore. Sì esattamente, ma più che ha vissuto la seconda guerra mondiale certamente, recependone un po' anche gli insegnamenti per quanto riguardava la costruzione del mondo dopo guerra, ma è soprattutto a quest'ultimo che essa è legata, appunto dopo aver vissuto quel grande conflitto ha potuto essere una parte in causa nel processo storico successivo a partire ovviamente dalla guerra fredda. Possiamo dire che Elisabetta II è una delle maggiori protagoniste della guerra fredda, questo senz'altro anche perché nel pieno delle sue forze l'ha vissuta tutta e anche quando essa è terminata ha cercato di, così come fece con la seconda guerra mondiale, un po' di recepire gli insegnamenti di questo drammatico periodo, anche lo si vede negli ultimi suoi vent'anni, 20-30 anni, quindi anche dopo la guerra fredda Elisabetta II è rimasta un pilastro, come viene ripetuto in questi giorni del Regno Unito. Quindi è proprio questa sua capacità di rappresentare un po' tutti gli eventi mondiali, lo svolgimento della stessa politica internazionale che è alla base di questa grande ondata di rispetto nei suoi confronti, che non si è verificata in passato in maniera così estesa per altri protagonisti, soprattutto della guerra fredda. E adesso, intanto, abbiamo continuato a vedere immagini relative alla vita della regina Elisabetta II, abbiamo una scheda introduttiva che ripercorre i 70 anni di Regno, ovviamente sempre per quanto è possibile, una scheda che riguarda proprio quello che in gergo viene chiamato, in gergo giornalistico, il coccodrillo, nell'articolo che si scrive quando muore una persona importante. Il servizio è firmato Francesca Macri. Vediamo. Regina di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, madre, leader politico e personaggio storico Elisabetta II, nacque a Londra il 21 aprile 1926. Dagli anni 50 agli anni 20 del nuovo secolo e millennio, il suo regno ha assistito ai più grandi e importanti cambiamenti dei panorami e degli assetti politici mondiali, rimanendo e diventando una figura di riferimento per generazioni, popoli e culture. In 70 anni di lungo e pacifico regno, Elisabetta ha assistito a 15 cambi di primi ministro nel Regno Unito, da Winston Churchill a Margaret Thatcher fino ad arrivare all'ultima stretta di mano istituzionale con Liz Truss dei giorni scorsi. Convinta conservatrice delle tradizioni istituzionali, morali e religiose, il suo regno ha coinciso con la graduale trasformazione dell'Impero Britannico nel Commonwealth delle Nazioni. Figlia del re Giorgio VI e di sua moglie Elisabetta, Lilibet, così era teneramente soprannominata in famiglia, divenne rete al trono del Regno Unito nel 1936 e regina all'età di soli 25 anni, il 2 giugno 1953 nell'abbazia di Westminster. Elisabetta, a soli 26 anni, agli albori del suo regno ha preso in mano un paese attraversato dagli errori della Seconda Guerra Mondiale che, da poco terminata, aveva messo fuoco e fiamme l'intero mondo. Tanti sono stati grandi passi della storia venuti sotto gli occhi della regina, così come diversi gli scandali interni che hanno messo a dura prova l'integrità e la saldezza della sua figura da regnante. Dal fallimento del matrimonio di Charles con Lady Diana, la separazione della famiglia reale da parte di Henry e Meghan, fino all'ultima vicenda scaldalistica riguardante il principe Andrea, una famiglia, quella di Elisabetta, da sempre sotto l'occhio mediatico del mondo intero. La domanda ora è, a chi verrà passato lo scettro della corona inglese? Ma come cantavano i Sex Pistol nel 1977, God Save the Queen, Dio salvi la regina? Naturalmente il servizio che abbiamo realizzato proprio in occasione della morte di Elisabetta seconda è la chiusura con riferimento al passaggio dello scettro, scettro che è andato a suo figlio re Carlo III e poi avremo modo, soprattutto nel capitolo secondo, di parlare di re Carlo III e questa nuova Gran Bretagna, questo nuovo Regno Unito con re Carlo III alla guida. Ma continuiamo però a fare la storia con il professor Giuliano Caroli, perché 70 anni di regno dal 1952 alla morte, 2022, 70 anni di regno. Io infatti nel ricordare tutti gli avvenimenti storici ho inserito anche la guerra di Corea, che fa parte della guerra fredda, ma l'ha vissuta da regnante per un solo anno, di fatto. Stava finendo. Un paio di anni, insomma, sì. La guerra di Corea fa già parte di quel conflitto lungo, lunghissimo, che poi termina nel 1989-91 e che pone la regina già di fronte in maniera repentina con questa crisi internazionale che vede contrapposti due mondi. E lei ovviamente è una rappresentante di uno di essi, forse in un momento abbastanza, se vogliamo dire, anche un po' drammatico per il suo paese. Il Regno Unito esce dalla Seconda Guerra Mondiale profondamente ridimensionato come potenza. Le potenze sono sempre più due sole, ben presto diventeranno superpotenze, anche grazie alle armi nucleari. La Gran Bretagna ha ancora il suo impero coloniale, che è il suo grande alleato, che resta fino ad oggi l'alleato più importante, gli Stati Uniti, però vedono anche lo stesso Roosevelt, grande amico di Churchill, vedono una certa diffidenza. Ben presto tutto questo impero crollerà. Prima ancora di essere regina, Elisabetta ha visto il distacco dell'impero indiano. No, l'India diventa indipendente e quindi una parte... L'azione di Gandhi va a buon fine. Una parte fondamentale di quello che era l'impero britannico sparso in tutto il mondo praticamente diventa, si sottrae al dominio di Londra. E così come gli stessi paesi più importanti del Commonwealth stanno sempre più prendendo la via di un'autonomia che in realtà, in pratica, nei fatti diventa un'indipendenza. Elisabetta resta capo di Stato di questi paesi del Commonwealth, dal Canada all'Australia, però sempre più quelli che erano chiamati i Dominions diventano paesi, anche se membri dello schieramento occidentale, anche essi diventano paesi autonomi. Elisabetta deve fare affronte a tutto questo. Forse uno degli aspetti più importanti del suo regno sta proprio nell'aver saldamente mantenuto la corona, diciamo, al di sopra di questi eventi drammatici che scuotono quello che era l'impero britannico. La Gran Bretagna non è più una grande potenza e lo dimostrerà negli anni successivi. Pensiamo ad uno dei grandi insuccessi della politica inglese negli anni successivi. Io ho parlato anche, ho ricordato la crisi di Suez. Esattamente, la crisi di Suez, il fiasco di Suez, l'insuccesso dell'intervento armato anglo-francese per riprendere il possesso del canale e da lì in poi… Quella è la fine proprio del colonialismo. È la fine, anzi, che viene non a caso pochissimo prima della scomparsa di tutto il resto dell'impero coloniale inglese. Soprattutto l'Africa anglofona e anche nell'America centrale, soffia il vento dell'indipendenza. E cambia la storia. Ma cambia la storia, la storia inglese è la stessa storia del mondo, anche perché fino a quel momento, fino alla fine degli anni 50, il Regno Unito aveva guardato con estrema diffidenza, se non con ostilità, alla costruzione dell'Europa. Certo. Dopo la perdita dell'impero coloniale, tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60, cambia rotta. E questo senz'altro non può non avere il beneplacido della sovrana. Quindi inizia a bussare alla porta della comunità economica europea. Un'altra svolta storica di cui Elisabetta II è un importante testimone. E poi avremo modo, magari anche con l'ospite nel capitolo secondo, di andare a quella che poi fu la Brexit, parlando di fatti sicuramente più recenti. Ora però con il professor Caroli, mentre Federico Aglielli ci può mandare quello che è il video che riguarda i premier incaricati dalla regina Elisabetta II. Partiamo proprio da Winston Churchill, 1951-1955, l'ultima parte poi di Regno di Churchill. Sì, praticamente, è il secondo governo di Churchill dopo quello della guerra. Ovviamente scorrono, stanno scorrendo tutti gli altri, però siamo partiti da Churchill perché le volevo chiedere, quei funerali che abbiamo visto così solenni, così maestosi della regina Elisabetta, in tanti li hanno paragonati ai funerali di Winston Churchill. Non so se è giusto fare un paragone, se lei ricorda i funerali di Churchill. Sì, a metà degli anni Sessanta, indubbiamente, però era già scomparsa un po' parte di quella generazione che aveva vissuto con Churchill gli anni drammatici della guerra. Certamente non si può mettere sullo stesso piano il funerale di Churchill con quello di Elisabetta II. Anche se fu il primo ministro che vinse la Seconda guerra mondiale. Il suo ricordo è vero, ma ricordiamo che già nel 1945 è mandato a casa dall'elettorato. Perché evidentemente l'elettorato era stufo di guerre, voleva un po' più di tranquillità. Proprio durante la conferenza di Posdam con Truman e Stalin, sostituito da Attlee, il nuovo leader laburista e il nuovo capo del governo. Anche il secondo governo, quello che va dal 1951 al 1955, non fu scevro da critiche per quanto riguarda questa seconda tornata del governo di Churchill, che ormai era abbastanza invecchiato. Anziano, sì. Anziano, sarà sostituito dal suo ministro degli esteri Anthony Eden, che poi cade con Suez, con la crisi di Suez. Ricordiamo che fu proprio la regina Elisabetta a suggerire al partito conservatore il nome del successore, Harold Macmillan. Proprio perché il partito conservatore non riusciva a trovare, a mettersi d'accordo sul successore. Macmillan che durerà fino al 1963, quando poi le elezioni viene sostituito da un altro leader e poi le famose elezioni del 1964 che riportano i laburisti con Harold Wilson al governo. E lì, come dicevo, cambia la politica inglese che guarda l'Europa. Ecco Wilson, infatti. Esattamente, ricordiamo i famosi veti di De Gaulle all'ingresso della Gran Bretagna nel 1963 e nel 1967, proprio perché la considerava, parlavo prima di questa co-leadership anglo-americana, la considerava la Gran Bretagna né più né meno che una sorta di presenza americana all'interno dell'Europa, di rafforzamento di quella presenza americana che De Gaulle invece stava cercando di combattere in tutti i modi. Solo dopo il periodo di De Gaulle infatti poi si avvierà quel negoziato che porta, e qui senz'altro la sovrana fu favorevole a questa svolta storica, porterà la Gran Bretagna a far parte della comunità europea nel 1973. A proposito di Premier, andiamo a sentire la nuova Premier britannica, l'ultima incaricata da Elisabetta II, parliamo dell'Istras che in Parlamento il 9 settembre scorso ha reso ovviamente omaggio alla regina Elisabetta il giorno dopo la sua morte, alla morte di suo padre, Re Giorgio VI Winston Churchill, disse che la notizia aveva fermato il rumore e il traffico della vita del XX secolo in molti paesi. Questa è una frase che fa parte dell'intervento della nuova Premier britannica, l'Istras. Possiamo vedere e ascoltare l'audio originale con i sottotitoli e la traduzione in italiano. L'Istras. Signor Presidente, in the hours since last night's shocking news, we have witnessed the most heartfelt outpouring of grief at the loss of her late majesty, the Queen. Crowds have gathered, flags have been lowered to half mast, tributes have been sent from every continent around the world. On the death of her father, King George VI, Winston Churchill said the news had stilled the clatter and traffic of 20th century life in many lands. Now, 70 years later, in the tumult of the 21st century, life has paused again. Her late majesty, Queen Elizabeth II, was one of the greatest leaders the world has ever known. She was the rock on which modern Britain was built. Così, dopo la morte della regina Elisabetta II, la nuova Premier britannica, l'Istras, in tanti i professori l'hanno paragonata, l'abbiamo vista prima nella serie di premier britannici, alla Lady Di Ferro, Margaret Thatcher, solo perché è conservatore forse, non vedo molte analogie. Aspettiamo, aspettiamo. Ancora è presto. Ancora è presto. E non è la prima che diventa premier donna dopo la Thatcher, no? Sì. Ci sono stati altri primi ministri donna. Beh, Theresa May. Theresa May, soprattutto, che forse la Maggie resta unica per tanti aspetti. Beh, certamente, ricordiamo, anzi a proposito, così si diceva allora, che non ci fosse molta simpatia fra Elisabetta II e la Thatcher, forse proprio per questo carattere fortissimo che il primo ministro inglese aveva nell'ambito del mondo politico britannico. Qui la vediamo anche con il principe Filippo, oltre che con la regina Elisabetta, ma non proprio, diciamo, il periodo in cui fu incaricata, no? Vediamo gli anni 79-90, ma visto anche questa foto, questo fermo immagine, l'anzianità sia della regina che di Filippo, queste sono immagini più recenti, però, si vede la Thatcher con il suo solito sguardo, no? Particolarmente fiero. Sì, fiero. Che è stata protagonista di quella guerra delle Falkland di cui abbiamo parlato. Sì, esattamente, anche nella guerra delle Falkland, occupate improvvisamente dalle truppe argentine, l'Argentina le rivendicava, poi ci fu l'intervento inglese, naturalmente, la riconquista, quel conflitto segnò un po' anche il regno di Elisabetta II, proprio perché era allo stesso tempo anche una dimostrazione, non solo della volontà ferrea del cavo di governo, della Thatcher, ma anche un po' una sorta di ritorno al passato, quasi, no? Alla politica delle cannoniere. Però ricordiamo che l'opinione pubblica inglese si schieroccompatta dietro questa decisione. Fu una breve guerra, però sembrò quasi un po' riscattare il ruolo strategico della Gran Bretagna. In quel momento, ancora più vicino agli Stati Uniti, ricordiamo proprio il rapporto molto stretto fra Margaret Thatcher e Ronald Reagan. Addirittura qualcuno parlò di Leason, di un flirt tra i due, è stato detto, no? Sì, ma è inevitabile che si parli anche di certe cose. Anche la storia internazionale, la storia delle relazioni internazionali è fatta di gossip in questo caso. C'è del gossip, anche nelle relazioni internazionali. Una volta faremo una trasmissione solo su questo. Sì, è una bella idea. Io direi che andiamo a chiudere questo primo capitolo di Aspasso nel tempo con qualche libro interessante che riguarda la regina Elisabetta, riguarda la Gran Bretagna, il Regno Unito e l'Europa, libri consigliati dal professor Giuliano Caroli per quella che è la rubrica Il libro e la storia. È questa la consueta sigletta del libro e la storia. Professor Caroli, vediamo il primo libro che consiglia a chi sta seguendo a spasso nel tempo. L'Europa non è Europa senza Londra, il Regno Unito tra c'è e mondo. Questo è molto importante anche in base a quello che diceva prima. Esattamente, perché è una ricostruzione fatta dallo storico Lucio Valent del processo diplomatico, del processo negoziale lungo e travagliato e non esente da ostacoli. E appunto prima, tra l'altro citavo De Gaulle, che dopo De Gaulle porta piano piano all'adesione del Regno Unito alla comunità europea. Tutto questo fa pensare proprio poi alla luce della Brexit. Alla luce della Brexit. L'Europa non è Europa senza Londra. La Gran Bretagna stava in Europa, nella comunità poi Unione europea, dopo un lungo processo, dopo una lenta costruzione che però è stata interrotta proprio con la Brexit. Andiamo al secondo libro consigliato dal professor Caroli. Questo riguarda in maniera più dettagliata la regina Elisabetta. Elisabetta, l'ultima regina di Vittorio Sabadin. È qui per chi volesse leggere qualcosa relativamente esclusivamente alla regina. Sì, perché sono tantissimi i volumi. Ovviamente ne abbiamo selezionati, le ha selezionati lei, ma ha detto che sono tanti. Sono tanti, già la selezione ne comprende tantissimi e tanti ne stanno uscendo in questo momento. Ovviamente, adesso immaginiamo, no? Anche solo in italiano, poi senza contare ovviamente quelli negli altri paesi. E poi, per chi volesse invece, una storia d'Inghilterra a 360 gradi, abbiamo un altro consiglio dai romani alla regina Elisabetta. Sì, è una storia molto più vasta. Anche qui i volumi sono molti. Ma questa è una collana, professore, che ci consiglia. Questo è un libro che parla proprio in maniera divulgativa ai romani alla regina Elisabetta. Un bel passaggio. Per ricostruire un po' il profilo storico nel lungo periodo, nel lunghissimo periodo della Gran Bretagna. Dal Vallo di Adriano, potremmo dire. Ci sarebbero altri volumi, ma adesso qui non facciamo il tempo. Sì, però, li abbiamo selezionati grazie al comitato scientifico della storia oscura per quanto riguarda Radio Cusano Campus e di Aspasso nel Tempo per Cusano Italia TV, quelli che avete visto nello specifico, grazie al professor Giuliano Caroli. E allora, chiudiamo qui il capitolo primo di Aspasso nel Tempo di oggi, dedicato alla regina Elisabetta II, la regina dei due secoli, come abbiamo titolato e come vedete. Ma restate sintonizzati sul 264 del Digitale Terrestre perché tra poco torniamo col capitolo secondo e al nostro salotto si aggiungerà una graditissima ospite. A tra poco. Ben ritrovati a Aspasso nel Tempo, secondo capitolo. continuiamo a parlare di Elisabetta II, la regina dei due secoli, così come abbiamo deciso di titolare per questa puntata di storia sul canale 264 del Digitale Terrestre, quella che è Cusano Italia TV. Lo avete visto già dall'inquadratura generale del regista Federico Aielli e ancora in studio il professor Giuliano Caroli, docente di storia delle relazioni internazionali e di storia dell'Europa orientale qui all'Unicusano. Ma al nostro salotto si aggiunge un'altra ospite graditissima, con lei esperta di esteri, di politica estera e in particolar modo è sinologa. e poi parleremo anche dei rapporti tra Regno Unito e Cina, quindi la regina d'Inghilterra e la Cina. La dottoressa Elisabetta Esposito Martino, benvenuta a Aspasso nel Tempo. Ben ritrovati, buonasera a tutti. E allora, ho detto esperta di politica estera, di politica internazionale, soprattutto per quanto riguarda i temi orientali, per così dire, ma è di Caffè Geopolitico e quindi chiedo subito alla dottoressa Esposito Martino che cos'è Caffè Geopolitico? Allora, il Caffè Geopolitico è un'associazione di promozione sociale che è nata nel 2009 ed è editrice dell'omonima testata giornalistica. è un gruppo di giovani, anche giovanissimi, che esamina le dinamiche complesse del mondo contemporaneo per studiare in maniera approfondita e anche scientifica, però anche cercando di rendere percorribile a tutti questo tema degli esseri così arduo tante volte, così difficile. E questo è Caffè Geopolitico, ce l'ha presentato la dottoressa Elisabetta Esposito Martino. Come ho chiesto al professor Caroli in apertura, dottoressa chiedo anche a lei una fotografia, un profilo in pochi secondi di questa regina dei due secoli, 70 anni di regno dal 1952 alla morte, al 2022, però abbiamo detto ha vissuto anche la seconda guerra mondiale, non da regina, ma l'ha vissuta comunque in prima persona con suo padre Giorgio VI. Ecco, una fotografia, la sua fotografia su Elisabetta II. Allora, io direi che i 96 rintocchi del Big Ben, le Cornamuse, il Last Post, questo richiamo di tromba del XVIII secolo, hanno dato proprio una configurazione a questa regina e ci permettono di chiederci quale sarà il senso della sua eredità storica. E contribuirà la sua morte al declino della proiezione britannica del mondo? Questa forza è la domanda che ci accompagna in questo tempo, perché lei è stata un elemento unificatore, ma anche un'ancora salda per il regno. Che cosa succederà? E questa è, diciamo, la sfida che si trova di fronte al Regno Unito, secondo me. Ecco, allora, prendendo spunto proprio da quello che ha appena detto la dottoressa Elisabetta Esposito Martino, ovviamente non abbiamo scelto la nostra ospite perché ci chiama Elisabetta, ma ci sta bene, visto che parliamo di Elisabetta II, e le faccio ascoltare proprio in merito a quello che ha appena detto, quelle che sono state invece le parole del nuovo re Carlo III, il 10 settembre, il discorso tenuto in occasione della sua proclamazione. La viva voce di re Carlo III, sottotitolata in italiano. Vediamo. Il discorso a tutti i pazienti, e le due capaci e le responsabilità di sovranci, che ho passato a me. In prendere queste responsabilità, mi dovrei farlo fare l'aspirante esempio che ho portato in portare un governo constitutionale, e per la pazza, la parola e la prosperità di questi islans e di tutti i comuni rielmi e terrati throughout il mondo. In tutto questo, sono profondamente accorgettate dal supporto di la mia bello vizia. I take this opportunity to confirm my willingness and intention to continue the tradition of surrendering the hereditary revenues, including the Crown of State, to my Government for the benefit of all, in return for the Sovereign Grant, which supports my official duties as head of state and head of nation, and in carrying out the heavy task that has been laid upon me and to which I now dedicate what remains to me of my life, I pray for the guidance and help of Almighty God. Professor Giuliano Caroli, perché prima, e abbiamo fatto vedere anche i premier che hanno caratterizzato i 70 anni di regno della regina Elisabetta, i premier da lei incaricati, non abbiamo parlato, professore, invece dei ministri degli esteri, comunque, visto che parliamo di relazioni internazionali, molti di loro hanno avuto dei periodi difficili da affrontare. Certamente, già alla vigilia di Elisabetta Regina, noi abbiamo delle personalità come Bevin, ministro degli esteri, che traghetta in maniera molto più decisa la Gran Bretagna nel blocco occidentale che ormai si sta formando, ma che inizia a interessarsi anche se il in modo molto limitato dell'Europa, no? Ecco, Elisabetta si trova già un po' questa eredità, no? Una volta diventata regina. La Gran Bretagna diventa uno dei membri fondatori dell'Alleanza Atlantica, proprio dopo aver stretto ancora di più la partnership con gli Stati Uniti. Questo è indubbiamente un'eredità che Elisabetta accoglie, accoglie sicuramente di buon grado, perché lo schieramento in quel momento così difficile di paura e di tensione, ricordiamolo, oggi noi possiamo valutare e riflettere sulla guerra fredda in modo diverso, no? Ma allora, ricordiamolo, c'era lo spettro anche della terza guerra mondiale, ricordiamo Berlino, la guerra di Corea, eccetera. Quindi la stessa Elisabetta diventa un protagonista di questo rafforzamento della posizione inglese in occidente che poi porterà appunto anche a bussare alla porta dell'Europa, anche se non subito. I ministri degli esteri sono un po' quelli che mettono in pratica la politica del governo britannico, sono più importanti a mio avviso i capi di governo, se pensiamo a Margaret Thatcher possiamo pensare a lei un po' come tutto il governo stesso. E' chiaro, dipende poi dai profili dei singoli premier che si sono succeduti. Certamente, non c'è una situazione paragonabile a quella italiana per esempio, a parte le differenze istituzionali, naturalmente. Quindi per quanto riguarda la stabilità di un governo una volta eletto, ecco. E' molto diversa la situazione, chiaramente. Però se dovessimo, forse è il nome che ha fatto in apertura il ministro degli esteri più significativo che ha avuto. Oppure anche lo stesso Eden al momento del secondo governo Churchill, no? Eden è già una personalità che Elisabetta si trova di fronte, ma una personalità che inizia proprio a lavorare negli anni trenta, no? Ricordiamo il suo scontro con lo stesso Mussolini, no? Quindi Eden che poi appunto, come abbiamo già rilevato, la crisi di Suez elimina dalla scena politica. Ma anche lo stesso Churchill che Elisabetta dichiarò di ammirare in modo particolare, no? Il capo di governo che rappresentò la stessa Gran Bretagna nella lotta contro la Germania nazista, è una personalità che però non schiaccia Elisabetta II, insomma. Eppure è una grande personalità. È una grande personalità, però riesce a convivere la giovane monarca, a convivere con questa eredità e in un certo senso anche un po' a farne parte. Quindi, e questo magari lo chiedo anche alla dottoressa Esposito Martino, da quello che ci ha detto del professor Caroli, può confermare anche lei, no? Di questa tempra che aveva fin da giovane la regina dei due secoli, Elisabetta II, dottoressa. Sì, sicuramente da una parte si è configurata come un puro simbolo istituzionale, ma anche fatto da collante a tutto il Regno Unito. Tante volte ha anche svolto un ruolo veramente diplomatico, che non è proprio di una regina che regna ma non governa, però è stato necessario per smussare potenziali attriti. Penso per esempio al viaggio che fece in Cina nell'86, quando erano in corso gli accordi per la restituzione di Hong Kong. Il suo ruolo non fu di poco conto. Fu proprio grazie a lei che questa ferita dell'umiliazione nazionale che l'impero britannico aveva inflitto alla Cina è stata un pochino, come dire, scolorita da questa sua presenza e da questa sua azione politica. Federico Agliele ci sta facendo vedere un'infografica molto interessante, con tutti i numeri, che sono tanti, da record della regina Elisabetta II. Su queste immagini chiedo ancora alla dottoressa Elisabetta Esposito Martino questo. In base a quello che lei ci ha detto proprio nella sua risposta a proposito del profilo, della fotografia scattata su Elisabetta II, ha parlato di eredità e di eredità ha parlato, lo avete visto e sentito anche il nuovo re Carlo III, quando ha fatto quel discorso in occasione della sua proclamazione. Ha detto, sono profondamente consapevole della grande eredità, dei doveri e delle pesanti responsabilità della sovranità che ora è passata a me. Nell'assumere queste responsabilità mi sforzerò di seguire l'esempio ispiratore che mi è stato dato nel sostenere il governo costituzionale e di cercare la pace e l'armonia e la prosperità dei popoli, di queste isole, dei regni e territori del Commonwealth in tutto il mondo. Ecco, allora le chiedo, da esperta di politica internazionale, alla luce del momento storico che stiamo vivendo, è un'eredità pesante per il re Carlo III? È un'eredità molto pesante, in un momento diciamo magmatico della politica internazionale, a fronte di equilibri geopolitici molto cangianti, in un contesto multipolare che rasenta il disordine globale. Però potrebbe essere uno strumento, il nuovo re, se sarà in grado, perché questo si chiedono tutti, anche data l'età avanzata, relativamente avanzata, di supportare il governo nella visione di Global Britain, questa nuova visione che era stata ideata all'epoca post-Brexit, in cui la Gran Bretagna si liberava da quelli che erano in fondo le pastoie di un'Unione Europea che non aveva mai troppo digerito e si faceva promotrice di un ruolo nuovo, un ruolo di convenient power, cioè di un potere di convocazione, ritagliando per il proprio paese un ruolo propulsivo e anche stigmatizzando, sottolineando quanto era fondamentale, quanto è fondamentale questa libertà di attenzione, questa velocità che le è data da pensare in fondo in maniera, non voglio dire imperiale perché avrebbe una connotazione negativa, ma in modo aperto, in modo nuovo e questo è testimoniato anche dall'attenzione che ha la Gran Bretagna per i quadranti che in passato storicamente erano i quadranti del grande gioco, quindi l'Asia centrale, che la contrappongono alla Russia, di cui con la quale sta ora in una posizione molto definita, ha dato armi a lungo raggio, offensive e non ha invitato Putin al funerale, diciamo in questa posizione molto pregnante nell'ambito del mondo globalizzato. A proposito dei funerali, di quello che ha appena detto la dottoressa Esposito Martino, possiamo dire che quei funerali, tranne alcune eccezioni, poi non soltanto la Russia di Putin, neanche altri paesi non sono stati invitati, ma comunque c'era tutto il mondo, capi di stato e di governo, re, principi. Ecco, dottoressa, in tanti hanno detto sì, erano lì, momento di raccoglimento e di partecipazione per i funerali della regina dei due secoli, come l'abbiamo ribattezzata noi, però probabilmente avranno sfruttato l'occasione per fare una sorta di mini vertice alla luce di quello che sta accadendo nel mondo. Secondo lei, soprattutto, penso a Biden, ad altri grandi, si sono parlati per fare il punto su quella che è la guerra Russia-Ucraina, quella che è la crisi energetica, quella che è la crisi economica e geopolitica, potremmo dire, perché forse è in atto anche una crisi geopolitica. Sicuramente. Anche il fatto che questo funerale sia avvenuto proprio da un punto di vista temporale dopo l'incontro di Samarkand, in cui in fondo l'Occidente è rimasto un po' colpito dal fatto che quello che si credeva appoggio incondizionato di Xi Jinping a Putin non si è verificato, anzi si è sentito una sorta di stizza da parte della Cina per i danni all'economia, alle vie della seta e a tutta la progettualità cinese. D'altra parte però è stato anche chiaro in questo vertice di Samarkand come la Cina voglia ridiscutere gli equilibri del mondo e in questo sicuramente l'occasione del funerale è stata un'occasione d'oro, si è stata sfruttata. Teniamo presente che per tutta una serie di questioni legate a sanzioni reciproche per il problema degli uguri nello Xi Jinping, per cui l'ONU ha esplicitato una sorta di mancato rispetto dei diritti umani per la Cina. In esito a ciò non è stato poi presente Xi Jinping ma il vicepresidente, però sicuramente anche la Cina ha bisogno di un soft power per porsi come nuovo referente mondiale e in questa ottica sicuramente anche il vicepresidente avrà avuto il suo ruolo e in questa ottica Biden con anche il presidente francese. Ieri si notava come Macron si sia stizzito di essere stato invitato in un pulmino e non mentre Biden è arrivato con la sua macchina. Diciamo anche qui si sono prefigurate e configurate alcune caratteristiche della geopolitica del momento, la presenza di Olena Zelenska, la mancanza non solo della Russia, della Bielorussia, dell'Afghanistan, della Siria. E' stato sicuramente l'occasione per un momento nuovo, per l'inizio di un momento forse diverso. Tra poco vedremo un servizio sull'omaggio dei sudditi a sua maestà. Ce l'ho detto prima a proposito di cenni storici importanti che ci ha dato il professor Caroli, ma abbiamo notato non solo da parte dei sudditi ma in generale possiamo dire da un po' tutto il mondo, comunque un mondo che ha pianto la scomparsa della regina a 96 anni, ma comunque abbiamo in qualche modo percepito un grande amore nei confronti di questa figura. Come si può spiegare questa immagine così amata? In genere in passato i monarchi non erano molto amati, se parlo di storia, venivano anche assassinati. A parte questo, ma anche non particolarmente esaltati. Ma proprio perché Elisabetta II racchiude una parte di storia del mondo. Un'epoca, un'epoca vera e propria, abbiamo detto due secoli. Un'epoca fatta poi di tante epoche, abbiamo citato la Seconda Guerra Mondiale, la Guerra Fredda, il post-Guerra Fredda. Questa epoca fatta di un mix di globalizzazione e frammentazione, di ritorno della guerra, allo stesso tempo di uniformità un po' di tutto il mondo. Quindi senz'altro un monarca che vive così a lungo, è un po' una sorta di punto di riferimento. Io penso anche un po' lo è stato per le giovani generazioni, anche perché appunto con le sue caratteristiche, questa morfologia caratteriale di Elisabetta è stata molto gradita a diverse generazioni. E' pur vero che tra gli anni 80, ma negli anni 90 soprattutto, forse abbiamo assistito a delle critiche più marcate nei confronti però dell'istituto monarchico. Sono gli anni del divorzio tra Carlo e Diana, poi alla fine della morte di Diana, eccetera. La regina Elisabetta venne criticata per questa sua definizione di quell'anno, annus orribilis, quando già la crisi economica lo stava rendendo veramente orribilis, però anche per le famiglie britanniche, quindi al di là degli eventi familiari della casa regnante. Però ecco, io volevo ritornare un attimo proprio su quello che diceva la dottoressa Esposito, proprio a proposito del viaggio in Cina. Ecco, esatto, la regina Elisabetta se vogliamo possiamo definirla anche una sorta di ambasciatore, no, in positivo nel mondo, perché furono tantissimi viaggi che fece. Storico quello in Cina, ma in tutti i paesi del Commonwealth e anche ovviamente in tutti gli altri paesi. In Italia, ricordiamo, insomma, venne particolarmente acclamata quando era ancora giovane. Andò a parlare all'ONU, non dimentichiamo anche questo, sono sbaterrato in due occasioni, nel 57, quando c'era la guerra fredda, nel 2010, quando la guerra fredda non c'è più da molto tempo. Quindi è anche una figura di pace, senza essere blasfemi, quasi come un pontifice, che viaggia e cerca di portare il suo verbo nel mondo. Ha acquisito una statura senz'altro anche internazionale e lo vediamo proprio adesso, insomma, perché vari governi avrebbero potuto mandare un rappresentante, un ministro degli esteri, o anche un capo del governo, sono venuti anche capi di Stato, quindi non è stato solamente un qualcosa di inevitabile, no, c'è un significato secondo me dietro tutto questo. Questo è molto vero. A proposito dell'omaggio alla regina, poi la stessa domanda su perché è così tanto amata, la girerò anche alla dottoressa Esposito Martino, però vediamo questo servizio. 17 settembre, l'omaggio alla regina Elisabetta II. La fila aperita d'occhio dei sudditi all'esterno, l'intimità di una famiglia reale che, almeno per la durata del lutto, prova a ricompattarsi all'interno. L'omaggio a Elisabetta II si fonda su queste due pilastri, fondamenta della sua vita nelle ore, che avvicinano il Regno Unito al maestoso funerale di Stato dell'Abbazia di Westminster, uno dei più imponenti della storia mondiale recente nelle previsioni, che lunedì 19 chiuderà il cerchio del lungo addio alla regina di record. La sfilata di popolo di fronte al feretro di sua malestà continua senza sosta, tanto ad aver costretto le autorità a sospendere i nuovi accessi al barco d'ingresso di Southwark Park, riempitosi all'inverosimile fino al parziale smaltimento della coda, allungatasi oltre gli 8 chilometri sulle rive del Tamigi con tempi di attesa di ben 14 ore. Una prova affrontata con pazienza, in segno di rispetto o di curiosità, da gente comune di ogni provenienza, età e strazione, come David Beckham, leggenda del calcio inglese, allineatosi con tanti altri per celebrare la vita formidabile della nostra regina. Vita che continua a essere richiamata a mo' di esempio dal suo primo genito, successore Carlo III, una lunga veglia che ha visto riunirsi la Royal Family attorno al feretro della regina Elisabetta. Nell'occasione Carlo ha mostrato di voler tendere in modo evidente la mano al figlio minore avuto dalla defunta Diana, ordinando che potesse indossare l'uniforme militare, negatogli dopo lo strappo dai doveri senior di rappresentanza della dinastia seguito alla scelta di trasferirsi negli Stati Uniti con la moglie Meghan a inizio 2020. Un atto quasi dovuto del resto, visto via libera, analogo garantito, eccezionalmente al principe Andrea, fratello del sovrano, privato a sua volta del diritto a esibire i gradi per una vicenda ben più grave di quella che ha riguardato Harry, ossia il sospetto coinvolgimento nel sordido scandalo sessuale. Questo l'omazzo dei sudditi a sua maestà, la regina Elisabetta II, e abbiamo chiesto al professor Caroli come mai così tanto amata, non solo dai sudditi, ma un po' da tutto il mondo, e la stessa domanda per andare alle conclusioni, la giro anche alla dottoressa Elisabetta Esposito Martino. Al di là, oltre a quello che ci ha detto il professor Caroli, io poi ho dimenticato, dottoressa, un aspetto importante, la regina ha vissuto anche il dramma con tutti noi e con tutti i suoi sudditi del Covid, anche questo il paese si è unito ancora di più intorno alla sua sovrana. Sì, fece un discorso importante all'epoca del Covid, in cui riuscì in una nazione che ha avuto grossi problemi a livello di lockdown, a dare un significato, in fondo il suo ruolo è stato quello sempre di unire i popoli per la comune fedeltà alla Corona, e questo si è visto in un particolare, che io poi stigmatizzo sempre essendo una studiosa di Cina, anche a Hong Kong. Cioè a Hong Kong ci sono stati tutta una serie di tributi alla regina Elisabetta, che hanno fatto presso il Consolato Britannico, che hanno fatto anche adirare le autorità governative di Pechino, e sono stato oggetto dai netizen della rete cinese di molte discussioni, e qualcuno diceva no, non è la mia regina, però altri hanno preso atto di questo ruolo che ha svolto importante, nonostante che la Gran Bretagna non abbia mai concesso il suffraggio universale a Hong Kong, comunque si è posta come garante dei diritti umani, dell'uguaglianza di fronte alla legge, di cui ultimamente non si trova molto traccia ad Hong Kong. E questo era importante per chiudere, perché c'era anche il capitolo Hong Kong, ha fatto benissimo a evidenziare questi aspetti la dottoressa Elisabetta Esposito Martino, che ringrazio e saluto per essere stata con noi in questa puntata di Aspasso nel Tempo, esperta di politica estera, di politica internazionale, in particolar modo di Oriente, di Cina, lei è sinologa di Caffè Geopolitico. Grazie e ci rivediamo qui a Cusano Italia TV a Spasso nel Tempo in altre occasioni, magari ci risentiamo anche alla storia oscura su Radio Cusano Campus. Buonanotte, a presto. Arrivederci. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Grazie ancora alla dottoressa Esposito Martino, grazie al professor Giuliano Caroli dell'Università Nicolò Cusano. I prossimi appuntamenti anche a lei, sia qui che in radio. Ma certamente. Grazie, grazie alla regia di Federico Aielli e soprattutto grazie a voi per la cortese attenzione. Vi lascio al TG della Notte di Cusano Italia TV. Noi con Aspasso nel Tempo ci rivediamo martedì prossimo, come sempre, a partire dalle ore 23. E poi vi ricordo la storia invece in radio tutti i giorni, dalle 13 alle 15, la storia oscura su Radio Cusano Campus. Buonanotte e buon proseguimento con i nostri programmi. Grazie a tutti.